Quindi polvere di marmo con resine che lui ha usato come se fosse, come si usa la creta per fare l'originale di una scultura e poi l'ha lasciata lì, ho capito? Anche perché con queste opere diventerebbe... Andiamo da Paolo e Francesca che è delizioso. E' sicuramente difficile fare delle repliche in quanto ci stanno dei sottosquadri che sono enormi. Quindi questa è opera unica? Sì, sì, sì. E ne ho la certificazione recente fatta ieri o l'altro ieri dal maestro. Eccolo qua, guarda. E' unica. Guarda, ti dà proprio l'idea del vento che li sospinge. Guarda, è stupenda questo scorcio. Con questo terribile vicino. Stiamo domani già, perché secondo me queste devono essere lavate al modo minimo. Direttore, se hai bisogno di aiuto, veniamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.